Oltre al direttore Ugo Fiducia e Gaetano Tafuri sono state iscritte nel registro degli indagati altre 14 persone. Sette hanno ricevuto l'interdizione per 12 mesi a svolgere la professione, il pubblico servizio o a contrattare con la pubblica amministrazione. Sono felice Maria Genovese, revisore contabile del bilancio AST, Giuseppe Carollo, componente dell'ufficio legale e affari generali, Alessio Porzi, amministratore di fatto della società Porzi, marca SRLS, Alberto Carrotta e Massimo Albanese, rispettivamente amministratore di fatto e referente della società Officine del Turismo SRL, Mario Salbitani e Giuseppe Telesca, referenti della società INHR, agenzia per il lavoro SRL di Potenza.